Fuori di casa ha giocato benissimo, due partite, due pareggi, vabbè ci possono stare, tre pareggi diciamo con la regina, ma oggi ha fatto veramente pietà. Ma il Cittadella ci ha imbrigliato bene pure, poi certo non puoi giocare sempre a quel livello, ci può stare. Spleghi troppo, lavori, 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 tiri, 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 ma alla fine non è possibile giocare in questo modo il primo tempo e il secondo tempo. Succede che oggi abbiamo giocato malissimo, poi un tiro che hanno fatto nello specchio della porta, abbiamo fatto pure la parola al portiere. Se una partita che nascono sì, si deve ringraziare l'arbitro perché le partite dopo quando una squadra segna non si gioca più. Quindi il secondo tempo è stata una partita non partita, troppo tempo per terra, troppo tempo il gioco è cortato, quindi tagliato niente. Il primo tempo l'abbiamo giocicchiata, siamo stati pure fortunati, il secondo tempo proprio nulla. Cosa manca a questa squadra? Ci manca un po' di tutto. Bisogna tornare al Matusa. Quindi smontiamo le tribune e le portiamo al Matusa? Smontiamo qua e andiamo di là. Allora Aldo siamo tanti, organizza così, organizzano subito un cantiere e così andiamo. Oggi una vera delusione Angelo, una vera delusione. Beh oggi male, oggi male, il primo tempo decente, il secondo tempo molto male. Non ho capito, forse Novacocci qualche minuto in più se lo poteva fare, Ciano qualche minuto in meno se lo poteva fare. Non capisco perché continuiamo a far battere i calci d'angolo a Ciano con questa palla a 75 cm da terra sul primo palo. Penso che qualche idea nuova su qualche palla inattiva ce la potremmo pure inventare a questo punto, perché veramente è una quantità di occasioni sprecate che non si capisce. Passo indietro. Oggi hanno giocato malissimo e forse li sta facendo giocare male. C'è qualcuno che è fuori condizione, magari un centravanti in più di peso, anche se Novacocci. Oggi era la prima partita, tranquillamente poteva prendere qualcosa in più. Magga no, hanno giocato tutti, per me tutti male hanno giocato. A compro una partita col Brescia, al Brescia siamo andati al 90% e qua siamo andati 20 sotto. Non lo so che è successo, però che... Grazie. 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 Grazie.